Senti, vorrei chiederti una cosa. Di che si tratta? Ecco, i miei amici vanno in campeggio e... vorrei andarci anch'io. Posso, mamma? No, Lucy, non credo che sia una buona idea. Dai, non è giusto! Ti prego, mamma! Cerchi di capire, voglio solo proteggerti. Vado a casa a piedi. Lucy, aspetta. Lucy! Lucy! Allora? Che ne pensi? Tess? Hai preso le pillole? Ansia? Depressione? Disturbi del comportamento? Allucinazioni? Ha passato tutta la vita entrando e uscendo dagli ospedali. E' stato come se qualcuno ti avesse spinto a terra e non riuscissi a muoverti. Quel rumore... Lasciami in pace! Che tipo di rumore? Ti prego, basta! Ti prego! Tess! 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 Penso che mia figlia sia posseduta dalla tua. Chi sei tu? Chi sei tu? Chi sei tu? Tess! Tess! Non mi fermerò. Non mi fermerò. Ah!